I primi di marzo ci sarà una nuova fiera in Puglia, una fiera internazionale per appassionati e soprattutto per chi produce questi determinati prodotti. Quali sono? Scopriamolo insieme subito dopo la sigla. Ah però, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Politics Farm e attivare la campanellina così verrete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Adesso, sigla! Procede spedita la macchina organizzativa di Enoli Expo Adriatica, la fiera internazionale di macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di olio, di oliva e vini, in programma a Bari dal 7 al 9 marzo prossimi. Sono oltre 200 gli espositori italiani ed esteri che saranno presenti su 16.000 metri quadri del nuovo padiglione della Fiera del Levante. È ricca di novità l'edizione 2024 della rassegna, la prima con il riconoscimento di fiera internazionale. Dall'ingresso gratuito preva registrazione al Beer Tech, il nuovo settore dedicato ai produttori di birra artigianale. Materiali, attrezzature, prodotti e servizi per le attività agronomiche e dei processi di trasformazione e commercializzazione delle filiere coinvolte saranno i protagonisti della Tre Giorni, che permetterà anche di approfondire le tematiche principali legate al mondo del vino e dell'olio attraverso un fitto calendario di eventi. Infatti a completare l'opera ci saranno tanti workshop, convegni e vari incontri. Adesso sentiamo le interviste per saperne qualcosa in più. Il fatto di essere internazionale ovviamente permette a tutte le aziende espositrici di beneficiare di contributi nazionali o camerali per l'abbattimento parziale dei costi. Inoltre ad Enoli Expo, oltre alle tecnologie per viticoltura, livicoltura, industriale aria e denologia, fine linea e packaging, sarà presente anche un nuovo settore, che è il settore dedicato ai produttori di birra, micro birrifici o un brewer. Spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi al canale YouTube Paoletti's Farm e attivate la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. e forse ci vediamo a questa fiera. Ciao, alla prossima!